La gestione dei rifiuti è uno dei percorsi più importanti per un'azienda agricola che gestisce in maniera virtuosa l'impresa, soprattutto attraverso i doni percorsi di sostenibilità. L'Unione Europea sta lavorando molto sul problema dei rifiuti, sono diversi anni con diverse normative. Negli ultimi mesi c'è stato un ulteriore intervento sulla comunicazione che riguarda l'economia circolare che ha un'attenzione molto specifica al recupero e riutilizzo di rifiuti e sottoprodotti. Chiaramente l'impresa agricola è una delle attività in cui l'economia circolare è sicuramente importante da sviluppare. Negli ultimi mesi per quanto riguarda la gestione e quindi adempimenti delle imprese agricole abbiamo avuto diverse semplificazioni. Nell'ambito della gestione Sistri che ha creato notevoli problemi soprattutto alle imprese agricole abbiamo avuto una forte semplificazione. In pratica la maggior parte delle imprese agricole, quindi parliamo di quelle al di sotto dei 10 dipendenti e comunque le imprese agricole che consegnano i rifiuti nell'ambito di un accordo di programma, una convenzione quadro ai circuiti organizzati di raccolta. Abbiamo avuto l'esclusione dal Sistri. Si rimane comunque all'interno di una tracciabilità dei rifiuti tramite strumenti cartacei o digitali però con delle grosse semplificazioni. Per cui l'auspicio è che finalmente l'agricoltura con le sue specificità non rientri in un sistema così complesso come quello del Sistri. Fermo restando che i rifiuti occorre gestirli in maniera virtuosa e quindi stiamo lavorando tanto anche come organizzazione proprio per definire a livello regionale in ogni provincia gli accordi di programma e le convenzioni quadro per favorire appunto la gestione virtuosa. Per cui il cammino è ancora lungo, però auspichiamo che nei prossimi mesi quando si arriverà a primo gennaio 2016 con una normativa comunque formulata in maniera definitiva possiamo mantenere le semplificazioni e quindi continuare a gestire i rifiuti in maniera corretta senza eccessiva burocrazia per le imprese.